Euronics è oggi con Michelangelo Moruso, direttore marketing di Sony Italia per la presentazione dei prodotti dopo l'IFA di Berlino. Molti prodotti con la nuova tecnologia 4K, come si differenziano i prodotti Sony? Sì direi innanzitutto un commento generale riprendiamo di rottirci, perché comunque Sony con tutta l'innovazione che ha portato quest'anno ci dà la possibilità di essere molto più positivi nell'affrontare il mercato. 4K sappiamo che è un formato ormai consolidato, tra l'altro siamo stati i primi alle poter venturare sul mercato due anni fa. La differenza sta su tre assi, il primo è la possibilità di esaltare le caratteristiche del 4K e quindi dare la possibilità di evidenziare ancora maggiormente i colori attraverso il pannello Triluminos, con una totale gamma di colori che va a coprire tutte le sfumature dei vari pantoni. L'altro elemento è la possibilità di avere un motore grafico molto avanzato che riesce quindi a gestire tutte le informazioni del 4K trasmette sulla CPU del televisore che hanno bisogno di essere processate nella maniera corretta perché ricordiamo 4K è un pannello ma dietro ci deve essere tutto il motore che pone le immagini sul pannello. Terzo elemento, non ultimo, è la possibilità di riprodurre i chiaroscuri. È poco evidente a un occhio non attento ma nel momento in cui si dà il confronto quanto è importante avere i neri e i bianchi e tutte le sfumature di questi colori messi bene in evidenza perché è fondamentale comprendere tutte le le sfumature d'ombre in un film che è stato concepire. Quindi con un'immagine di questa qualità ci vuole anche un audio di qualità? Esattamente. Allora Sony ovviamente nasce dall'audio. Sonus è il nome suono in latino. Quindi quello che è stato fatto è stato quello di poter integrare e rispondere alle esigenze del nostro pubblico nell'ambito dell'audio. L'S9, il curvo nuovo che è stato introdotto proprio questo mese, permette di rispondere a queste esigenze. Si tratta di avere una tecnologia audio 4.2, quindi quattro speakers laterali che siano differenziati dal punto di vista degli angoli che danno non un effetto surround ma un vero e proprio surround e due subwoofer sulla parte retro che danno a enfatizzare la potenza. Target Home Cinema, parlante dei movies su TV. Oltre ai film, Sony è anche per giocare, il nuovo tablet Z3 ha una funzione molto particolare legata alla PS4. È una funzione esclusiva per tutta la gamma Z3, quindi il telefono compact, il telefono ELI, Z3 compact che è il nostro tablet 8 pollici che permette finalmente per gli utenti di Sony PlayStation 4 di poter giocare via remoto utilizzando il joystick della PS4 sul nostro telefonino. In pratica io sto godendo il mio gioco su un 55 pollici, me la sto spassando, cioè mia moglie e i miei figli che dovrebbero dire che mi disturbano e io con tutta calma posso prendere il mio tablet, collegarlo in wifi, continuare a giocare sul mio tablet in santa pace, collegarle il joystick e spostarlo in maniera gentile in qualsiasi altro ambiente della casa e continuare a fare quello che stavo facendo. Perfetto, grazie mille. Grazie.